Abbiamo detto che i 5 Stelle erano l'altra faccia della sinistra e noi la sinistra la combattiamo, non ce la portiamo al governo, non ce la portiamo in nessun caso e mai. I fatti ci hanno dato ragione sul Movimento 5 Stelle, quello che si spacciava come un movimento rivoluzionario era in realtà il più fedele alleato dello status quo. Guardate c'è un manuale per raccontare l'evoluzione dei 5 Stelle, si chiama La fattoria degli animali di George Orwell, è esattamente la storia del Movimento 5 Stelle. Perché lo dico? Perché io non accetto la teoria secondo la quale in Italia sarebbe fallita l'esperienza di un governo sovranista, quello con i 5 Stelle non era un governo sovranista, era al massimo un governo populista, l'Italia repubblicana deve ancora conoscere un governo di autentici patrioti e lo conoscerà quando a Fratelli d'Italia sarà data la possibilità di guidare questa nazione.